Questo servizio potremmo intitolarlo così, come smentire il pessimismo degli osservatori. Per mesi stime interne e internazionali infatti condannavano l'economia italiana a una sia pur lieve recessione nel 2023, con conseguenze piuttosto spiacevoli anche sul fronte dell'occupazione. E invece nel breve volgere di poche settimane, dal segno meno davanti al dato di pille e occupazione, si è passati al segno più. A ulteriore conferma di quanto appena detto c'è la nota Istat pubblicata il 2 marzo e riferita al mese di gennaio. L'Istituto di Statistica evidenzia che il tasso di occupazione ha raggiunto il 60,8%, con un numero di lavoratori arrivato a superare i 23 milioni e 300 mila, un tasso di disoccupazione al 7,9% e un tasso di inattività che scende al 33,9%. Ma soprattutto sottolinea un aspetto che forse è stato un tantino sottovalutato. E che emerge chiaramente dal confronto con un periodo in cui l'occupazione e il pilla avevano un ripreso grande slancio. Rispetto infatti a gennaio 2022 il numero di occupati cresce di bene il 2%, mezzo milione di persone, un dato che sarebbe persino riduttivo definire significativo.